www.redigio.it e la storia continua antichi detti meneghini Al tempo della Cisalpina, i milanesi, delusi da tante promesse non mantenute dei dominatori francesi, che pur si vantavano di aver esportato gli ideali della rivoluzione, usavano borbottare. Libertà e indipendenza fino al darsi di Porta Renza, che poi oggi è Porta Venezia, la quale non era alla fin fine molto diversa dalla casuccia dei gabellini che vide Renzo Tramellino. C'erano poi le prepotenze della soldataglia ai danni dei cittadini, ma ne seppe qualcosa Giovannin Bunget, panciuto, il popolano spaccone e pavido, immortalato dal Porta, Allorché, fermato in malo modo dalla ronda mentre passeggiava in via Santa Margherita, definirà poi uno di quei gendarmi un as nun, porc de munfera, un'espressione gergale in uso un tempo presso il volgo. Quanto alla connotazione suina di quel somaro, si racconta che il Manzoni, vedendo un giorno in piazza bel gioioso una carrozza nobiliare che correva l'impassata e per poco non investiva una popolana, agitando minacciosamente il bastone, prorompesse nell'invettiva. Porchi de juri! Ma torniamo all'espressione as nun del Montferrat, che i somari di questa zona nel Piemonte fossero grandi e grossi, lo sapevano bene i nostrani osti, i locandieri e mercanti, che spesso intraprendevano il non breve viaggio oltre il Ticino per sommozzare quei colli per vendemmia festanti, e così di rifornirsi di barbera, freisa e grignolino, in ciò incoraggiati dalle autorità preoccupate di tenere quietri i propri sudditi. E sarebbe il caso di dire vinum, anziché panem e cilicensem. Non per niente si ponivano severamente gli osti che sofisticavano il vino con l'acqua nascosta in cantina. Ne si mancava di castigare con uno o più tratti di corda da darsi alla pubblica via, che strizzava l'occhio per avvertire che c'erano in giro i controllori del fisco, un po' come certi automobilisti di oggi che segnalano con gli abbaglianti la presenza dell'autovelox ai bordi delle strade. Nella campagna Brianzola il pan di grano turco o pan gialdo che si insuppava un tempo nel latte come colazione mattutina era anche chiamato via d'oro, perché, presto ho detto, essendo in uso prima di mettersi in tavola di recitare le orazioni, e le nostre contadine le iniziavano a voce alta per farlo ripetere ai loro figlioli. Vi adoro, mio Dio, e vi ringrazio per avermi creato. E siccome le prime parole erano via d'oro, esse passarono a indicare lo stesso panne giallo, ossia il via d'oro. Un detto, invece, tuttora ben presente nel dialetto è mangiare i benis, cioè sposarsi, letteralmente, mangiare i confetti che i milanesi chiamavano appunto i benis, termine forse derivato da benedire, e in latino benedicere, è inteso come benedizione nuziale. www.redigio.it E la storia continua.